Lo abbiamo sperimentato un po' tutti, negli ultimi mesi è cambiato il modo di comunicare i collegamenti sono diventati appuntamenti fissi nella nostra agenda e quindi non possiamo farci trovare impreparati in questo video tutorial in 5 punti vi raccontiamo i segreti per un collegamento perfetto collegatevi al pc o in alternativa allo smartphone accendete la webcam e assicuratevi di avere una buona connessione sembrerà banale scontato ma la vostra immagine deve sempre essere al top e soprattutto ben presente nell'inquadratura magari evitando di uscire di scena mentre state parlando e mentre siete nel clou del vostro discorso noi questo vogliamo evitarlo vero sempre rimanendo sull'inquadratura ancora un paio di regole importanti l'inquadratura ideale è quella mezzo busto esattamente come sono io evitate di avvicinarvi troppo allo schermo perché così facendo le dimensioni vengono sballate e soprattutto diventa più probabile che si vedano delle imperfezioni e noi questo non lo vogliamo la fonte di illuminazione non deve mai essere alle vostre spalle ma di fronte a voi e questo sia che si tratti di luce artificiale quella che arriva da una lampada sia che si tratti di luce naturale quella per esempio che entra da una finestra e adesso parliamo proprio della questione scenografia non tutti hanno la fortuna di avere come me uno studio televisivo a fare da sfondo ma non disperate perché con piccolissime accortezze possiamo ricreare il nostro personale set e voi qui mi direte sono sempre più diffusi gli sfondi virtuali che problema c'è? se volete provateli ma l'effetto ottenuto risulterà un po' artificioso quindi il consiglio è quello di preferire un'ambientazione naturale e basta veramente poco volete qualche esempio? potete scegliere la classica libreria alle vostre spalle oppure un tavolino con dei fiori o una pianta che farà subito arredamento capitolo microfono partiamo dalla situazione ideale cuffie con microfono quelle che vi sto mostrando in realtà non a tutti piacciono perché sono un po' ingombranti anche se con queste l'audio sarà impeccabile se proprio non le volete indispensabile l'uso dell'auricolare perché solo con l'audio ambiente la voce potrebbe essere disturbata da rumori, interferenze e rimbombi e adesso visto che nel video vogliamo essere perfetti un ultimo consiglio che riguarda il look seguendo il vostro stile personale elegante o casual tendiamo a preferire colori neutri evitando quindi stampe troppo vistose o troppo sgargianti maglie non troppo accollate e poi è vero che da qui in giù non ci vede nessuno però evitiamo di vestirci di tutto punto sopra e sotto magari metterci dei pantaloni della tuta o peggio ancora ciabatte o pantofole se avete seguito il nostro tutorial dal primo all'ultimo punto ora siete pronti per il collegamento perfetto come dite? La tecnologia vi mette ancora un pochino di ansia? anche a questo c'è rimedio durante il collegamento fatevi assistere da un vostro tecnico e voi non dovrete più preoccuparvi di nulla